Probabile spilla Cerchio umanità e movimento Apporto orale Dato in dono nel 2022 a Rosaria Durante una riunione a Ventotene Non si conosce la data esatta della materializzazione La probabile spilla Materializzata nella bocca e non nella gola dello strumento Ha prodotto dolorose escoriazioni nella mucosa boccale Ringraziamo Alessandro L Coordinatore di questo cenacolo Per averci fornito il video da cui sono tratte le immagini